Ciao a tutti, oggi abbiamo delle notizie davvero intriganti da condividere con voi. Edoardo Donnamaria sta per regalarci una sorpresa musicale imperdibile con il suo nuovo singolo intitolato Piccolo Sole che come sicuramente sapete è dedicata ad Antonella. L'uscita è prevista per il prossimo 21 luglio, ma non è tutto perché Edoardo è a lavoro su varie iniziative tra cui un fantastico progetto insieme a Matteo Diamante, il podcast intitolato Attendi a quei due. In onda ogni giovedì sera in diretta su Twitch. Ma passiamo alle ultime news. Prima di iniziare però iscrivetevi al canale perché per noi è importantissimo il vostro supporto. Durante l'ultima puntata di Attendi a quei due, mentre si discuteva di nobili guerrieri del passato è volato un commento pungente da parte di Diamante ad Edoardo Donnamaria. Una volta facevano i principi con le spade, ora fanno le principesse, ha affermato Matteo in modo scherzoso lanciando un chiaro riferimento all'atteggiamento recente di Edoardo. Non si è fatta attendere la risposta brillante e inaspettata di Donnamaria che ha colto l'occasione al volo per una battuta d'effetto. Di ragazza con la spada ce n'è una sola, lasciando intendere che si stesse riferendo ad Antonella e alla sua esperienza da schermitrice. Questo scambio di battute ha acceso la curiosità dei fan e ha sollevato alcune domande. Potrebbe Matteo cercare di fare da cupido? Nonostante la fine della loro relazione, Antonella ed Edoardo dimostrano di essere persone forti e determinate nella gestione delle loro vite dopo l'esperienza al grande fratello Vip. Entrambi stanno perseguendo i propri sogni e concentrando le proprie energie sulle nuove opportunità che si presentano. Tuttavia, non possiamo negare che l'idea di una possibile riappacificazione continua ad affascinare i fan. L'amore è un sentimento imprevedibile e nel caso di Antonella ed Edoardo sembra esserci ancora un sottile legame che li unisce nonostante la separazione. Non vediamo l'ora di leggere il vostro pensiero nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere le prossime notizie. Ci vediamo presto con ulteriori scoop e curiosità. Alla prossima! Alla prossima!